Nacio, una bella Udinese, una grande partita contro un avversario forte, è un segnale chiaro che dopo due settimane di lavoro si iniziano a vedere i primi frutti? Sì, contento, credo che oggi abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo misurato e credo che questa è la strada, dobbiamo ancora continuare a lavorare ma credo che questa è la strada. Ecco, poi per te è arrivata anche una bellissima soddisfazione, quella del gol, nel primo tempo ne hai sfiorato un altro, insomma sei stato grande protagonista, chiaro segnale che anche per te le gambe iniziano a girare bene. Sì, sì, sono contento perché un attaccante deve fare gol e io l'ho fatto oggi, ringrazio tutte le squadre per il lavoro, ma so che devo lavorare ancora, devo migliorare tantissimo per arrivare bene all'inizio del campionato. Ecco, grande sacrificio da parte tua, nelle prime partite hai anche giocato un po' più dietro, oggi più vicino alla porta, ti metti veramente sempre a disposizione in qualsiasi cosa il mister ti chiede? Sì, io devo essere a disposizione del mister, il mister sa che mi piace giocare un po' più avanti, ma se lui ha bisogno che io devo giocare nella faccia, lo faccio, ma credo che tutti stiamo facendo un gran lavoro.